Un quindicenne di cittadella è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata. Il ragazzo, dopo una lite con la madre per futili motivi in tarda serata, ha minacciato con un coltello da cucina il compagno della donna che era intervenuto per difenderla. Provvidenziale l'intervento degli uomini del radiomobile. Coltello sequestrato e quindicenne segnalato all'autorità giudiziaria per i minori.